Parte questo pomeriggio l'atteso corso di logica organizzato da Uniform per la preparazione al concorso MIBAC. Presso la sede Pegaso di Avellino, in via dei due principati 143 alle 17.30, il professor Giuseppe Cotruvo, docente del corso ed esperto di fama nazionale dei quiz di logica, terrà un seminario introduttivo sui recenti concorsi banditi, tra cui spicca per domande di partecipazione proprio il MIBAC. Sono quasi 210.000, infatti, le domande pervenute al 23 settembre, per i 1.052 posti messi a disposizione, a testimonianza di un grande interesse verso questo concorso. Come spesso accade, le prove preselettive sono un ostacolo primo e forse principale da superare per i candidati, chiamati a rispondere a domande specifiche del concorso, ma anche e soprattutto a domande di logica. La Uniform, pertanto, ha organizzato un corso di preparazione sulla logica, tenuto dal professor Cotruvo, che oggi pomeriggio, in un seminario introduttivo, illustrerà il suo metodo di concorsi per il quale il corso si propone. Il seminario delle 17.30, gratuito, precederà la prima lezione del corso, che si terrà alle 18.30 nella stessa sede. Sarà possibile iscriversi al corso fino all'inizio della prima lezione. Un'occasione importante per meglio conoscere il mondo della logica e per comprendere le potenzialità di un corso che si propone come supporto didattico efficace per il superamento della prova preselettiva. Appuntamento dunque alle ore 17.30 di questo pomeriggio, presso la sede Pegaso di Avellino, in via dei due principati 143. Grazie a tutti.